Che fine ha fatto il Bari di Carrera? Domanda lecita dopo lo stantio 1-1 del San Nicola contro una casertana incerrottata. Terza partita di fila senza vittoria per i biancorossi che vanno avanti con Dursi e si fanno agganciare da Carillo nel finale di primo tempo senza reagire nel secondo. Bari privo di bianco, squalificato, Carrera ritrova Marras che con Antenucci e Dursi completa la batteria di fantasisti alle spalle di Cianci. Casertana che si presenta al San Nicola con 10 indisponibili, emergenza in difesa nel tridente di partenza, spazio a Pacilli, Cuppone e Turchetta. Bari pericoloso in avvio con Cianci, Maita sfonda a destra, appoggia a centro aria per l'otto che con il piattone batte a rete ma trova la parata di Avella. La squadra di Carrera lavora sugli esterni, combinazione Dursi-Marras, cross del primo e sinistro al volo del secondo, bersaglio fuori misura. L'equilibrio si spezza al 26esimo, Cianci avvia l'azione con pallone che arriva a Dursi, controllo in aria, destro a giro e Avella non riesce a smanacciare in maniera efficace, 1-0 e sesto gol in campionato per Dursi. Non si placa la sfortuna in casa Bari, Sarsi cade male in un contrasto con Pacilli ed è costretto ad abbandonare il campo, al suo posto dentro Sabbione con Perrotta che slitta a sinistra. Il pareggio arriva nel primo dei tre minuti di recupero, Sabbione atterra a Ziosmanovic dagli sviluppi del calcio di punizione, Pacilli crossa, la palla scorre alle spalle di Sabbione e Carillo in spaccata trova l'1-1, doccia fredda al riposo per il Bari. Il secondo tempo inizia con Rolando per Dursi nel Bari, Carrera passa al 3-4-1-2 con semenzato che sale e Perrotta allineato a Sabbione e Di Cesare in difesa. La risposta della Casertana è nel sinistro di Cuppone che non approfitta del regalo di Di Cesare e spara alto sulla traversa con lo specchio a disposizione. Antenucci protagonista all'ora di gioco, ha ingresso in aria sterzata con il destro e sinistro a giro, Avella vola a evitare il sorpasso, poco dopo è Rolando a mettersi in proprio saltando a Ziosmanovic a sinistra e calciando, ancora Avella devia in corner. Carrera gioca il tutto per tutto con Candellone per semenzato e Perola Casertana sfiorare il 2-1, contropiede che porta al tiro Turchetta che sceglie il destro all'ingresso in aria ma non trova la porta a Frattali battuto. Nel finale il Bari attacca con la forza della disperazione di Cesare di testa alto. L'occasione per vincere la partita c'era Perola Casertana, sugli sviluppi di un calcio d'angolo per il Bari, gli ospiti vanno in contropiede con Matos e si presentano davanti al portiere con Rosso, l'undici calcia, Frattali blinda il pareggio. Alla fine 1-1, terza partita di fila senza vittorie per il Bari che ora guarda con preoccupazione alla difesa del terzo posto e prepara lo scontro diretto di Catanzaro. La Casertana sale a 38 e fa un altro passo verso la salvezza.